Si è detto favorevole all'iniziativa e nelle prossime settimane incontrerà i suoi sostenitori per ricevere le firme e valutare la possibilità di procedere con la richiesta. Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha contattato personalmente nei giorni scorsi l'ideatrice della petizione online per intitolare a Nadia Toffa il reparto onquematologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A lanciarla sulla piattaforma change.org alcuni giorni fa, un utente del sito Alessandra Marotta ha seguito della triste notizia della scomparsa della nota inviata delle Iene, morte il 13 agosto scorso a causa di un cancro. Un gesto simbolico in ricordo della sfortunata giornalista che era cittadina onoraria di Taranto su delibera del Consiglio Comunale per via delle sue battaglie televisive in difesa della salute dei Tarantini minacciata dall'inquinamento del polo siderurgico. L'inviata aveva anche aderito ad una raccolta fondi che ha permesso proprio la costituzione del reparto di onquematologia pediatrica del Santissima Annunziata. In poco più di una settimana l'iniziativa ha registrato oltre 85.000 sostenitori che hanno firmato sul web condividendo e facendo a loro volta firmare la petizione. L'obiettivo è quello di portare sul tavolo del presidente Emiliano almeno 100.000 sottoscrizioni in modo che la richiesta degli utenti abbia un peso ancora maggiore. Le adesioni nel frattempo continuano a crescere e le possibilità che l'ambizioso traguardo possa essere addirittura superato ogni giorno che passa sembrano sempre più concrete.